Grazie Presidente. Dunque in questa atmosfera parliamo di buona educazione. Che ci vuole? Questa mozione e preannuncio anche le due seguenti, in verità erano state pensate e redatte in occasione di alcune giornate di novembre che l'ONU dedica a temi particolari e questa fa riferimento alla giornata del 13 novembre che l'ONU dedica alla gentilezza. È un tema che sembra peregrino, sembra essere assolutamente superficiale e invece rientra in quelle modalità con cui noi possiamo contrastare la violenza che è sempre più pervasiva, violenza nei gesti, violenza nelle parole, di cui purtroppo vediamo giornalmente, quotidianamente, in ogni momento, in ogni occasione, in ogni luogo anche i meno appropriati, l'espressione. Allora si pensa sempre ai bambini in questo caso e per far capire che i valori vanno non solo predicati ma anche praticati e che educare al rispetto, come diceva Anna Arendt, è educare alla democrazia, la commissione delle elette ha così pensato, organizzato un progetto che vuole presentare all'assessore alla scuola che racchiude in alcuni disegni, in alcune programmate, attività un gioco che vuole esaltare la buona educazione facendo in modo che i bambini diventino protagonisti essi stessi del controllo dei gesti e quindi imparino attraverso il controllo degli altri anche il controllo di se stessi. È semplicemente un gioco ma noi sappiamo quanto il gioco educhi poi l'adulto e questo la commissione delle elette ha visionato, un kit è stato piacevole perché a volte la politica può essere anche piacevole quando è portatrice di valori positivi. Quindi offriamo questo lavoro all'assessorato alla scuola che chiaramente poi lo declinerà nei modi e nelle forme che meglio crede. Grazie.